Sono sette le possibilità di controllare il tuo mutuo in modo autonomo e te ne menzionerò tre che sono semplici, poi magari il resto sono un po' più evolute e se vorrei fare degli approfondimenti potrai rivolgerti a noi. Detto questo, ci sono alcune questioni che le puoi fare da sole. Ti invito anche a una riflessione per magari i diversi commenti che ci possono essere di persone anche che magari non sono neanche del mestiere. Ci sono tre tipologie di ignoranti. Allora, chi non sa? E comunque chi non sa spesso parla. Chi sa male? E questa è una categoria molto peggiore della prima. E la terza categoria è quella che sa delle cose che non servono a niente. Quindi magari parla di questioni mistiche o ipotesi che poi nella vita reale non servono a niente. Quello che io faccio è darti delle indicazioni che domani mattina tu puoi applicare. Quindi non preoccuparti troppo degli ignoranti perché un ignorante trova sempre uno più ignorante di lui che lo ammira. Quindi concentrati sui fatti. TASSO FLOR Tu prendi il tuo mutuo. Se il tuo mutuo ha il tasso FLOR, la banca ti deve restituire parecchie migliaia di euro. Puoi andare a vedere, ti do qualche indicazione, la sentenza 2836 pubblicata lo scorso settembre 2022. Ce ne sono tante, però ti do delle indicazioni precise. Applicata ai mutui al tasso FLOR, apprenda ai titolari la possibilità di ottenere la restituzione degli interessi. Clause vessatoria. La seconda è la pubblicità ingannevola. Questa da solo non si può fare. Regime finanziario no. Valuta estera. Ti do anche dei riferimenti di sentenze. La sentenza del 20 settembre 2017, Corte di Giustizia Europea. Sentenza numero 14, 26 aprile 2022, Tribunale di Pescara. Ce ne sono tante, però te le do alcune indicazioni precise, così te le puoi andare a leggere da solo. Quando il tuo mutuo all'interno ha una valuta estera, quindi il sottostante estera che può essere Ien, Franco Svizzero, non lo so. Se ha qualcosa che non è l'euro o all'epoca la lira, ma ormai la lira, ma ci potrebbero essere, quel mutuo diventa indeterminato e passa al tasso Euribor in quell'epoca, al tasso BOT, scusate, al tasso BOT di quell'epoca. Quindi può essere lo 0,20, lo 0,30, 0,60, 0,70 dipende dal periodo. E tutti i interessi che vanno oltre a quella cifra lì devono essere restituiti. Quindi parliamo di migliaia di euro. Quindi valuta estera. Premetto che queste informazioni non ti servono a fare una causa, però ti servono a negoziare con la banca. Se hai un problema con la banca o vuoi ottenere un punto in meno dal tuo mutuo, un affidamento. Dici, guarda, io so che quella roba lì non va bene e la banca lo sa perché se ti attivi poi dopo ti devi dare i soldini, magari ti tratta meglio. In determinatezza, un'altra analisi che facciamo però richiede matematica finanziaria. Tasso di usura, anche qui richiede l'ausilio di un software per fare dei conteggi. Ti do un'altra che puoi verificare tu da solo, che è il mutuo per pagare i debiti. Cioè, se tu hai fatto un prestito per pagare un altro prestito o un mutuo, peggio ancora, per pagare i debiti della banca, questo mutuo non ha uno scopo. Perché la legge stabilisce questo, che è anche logico. Se tu sei già in difficoltà, quindi hai in difficoltà a pagare un mutuo, un prestito, comunque hai un'azienda che magari ha un momento critico, come è appena successo con la pandemia, non puoi risolvere il problema facendo un prestito su un altro prestito, perché poi entra un abitamento economico che ti farà fallire. Migliaia di aziende faliscono per questo motivo. Tu ti puoi opporre. Quindi appignoramenti, decreto ingiuntivi, fatti con questo sistema. Quindi la banca ti ha fatto un prestito, ti ha fatto un mutuo. Poi a copertura di quel mutuo te ne ha fatto un altro. Dice così allunghiamo il tempo e te lo puoi permettere. Quindi doppie commissioni, doppie assicurazioni. Questa legge dice no. Se tu hai dei problemi non devi fare un altro mutuo. E guarda che questa roba qua è importante, può salvare aziende, può salvare famiglie, può salvare posti di lavoro. Cioè condividila questa roba qua, anche se magari a te non interessa direttamente, perché è molto utile. Tu devi fare un piano di rientro. Non puoi mettere una persona in difficoltà facendogli un altro prestito. Lo capisci? È facile, no? Quindi se hai fatto un prestito su un prestito è illegale. Quindi qualsiasi azione legale che ti hanno fatto successivamente ti puoi difendere. Ok? E questo lo sai da solo. Quindi ti ho dato delle opzioni semplici che tu puoi capire da solo. Altre sono un po' più complesse, quindi vi devi mandare i documenti. Serve un altro tipo di ita. Ok? Se vuoi chiarimenti, deciba.info.chiocciallibero.it o www.deciba.it trovi i riferimenti. Ok? Queste informazioni sono fondamentali e come vedi io ti racconto dei fatti e ti do dei riferimenti di legge. Ma sai perché? Perché tu prova a immaginare quanta gente non vuole che tu sappia questa informazione. Io poi non faccio fantasia, ti dico i riferimenti di legge, ti dico delle sentenze emesse da giudici, non da totò che è sotto commento. Beh no, non è vero. Capisci, no? Capisci la differenza. Questo ti può essere utile a te e può essere utile a tutti. Ed è fondamentale sapere il fatto che tu puoi difenderti per la tua casa, per la tua azienda. E la devi smettere di essere sottomesso sempre e comunque alla banca. La banca lavora per te, non è il contrario. Non puoi entrare in banca con questa roba qua di sottomissione, sembra che vai a fare sempre una rapina. No? Perché l'atteggiamento poi è quello lì. Ok? Condividi, metti segui, così cresciamo sempre di più, grazie alle 75.000 persone che hanno messo segui e che mi seguono. Gruppo Telegram, Gaetano Minno. Ciao.